La sofferenza è già rientrata in via di totale non solo miglioramento ma anche potenziamento delle strutture, non c'è mai stata emergenza. Chiaramente viviamo in Italia, non a Napoli, una situazione complessiva di impiantistica non ancora adeguata e se contestualmente accade che si mette in manutenzione una linea del termovalorizzatore, si rompe lo stir di Tufino e ha un guasto lo stir di Giuliano, è chiaro che il sistema anche se ci trovassimo in un'altra città di un'altra nazione andrebbe in difficoltà. Però oggi rispetto al passato c'è una grande squadra, ci sta un'ottima cooperazione istituzionale tra i vari enti coinvolti ma soprattutto la cosa di cui più sono contento perché in questi giorni ci ho anche lavorato molto per fare il punto della situazione sono le prospettive che mi lasciano molto tranquillo. Il lavoro che si sta facendo sull'impiantistica alternativa, gli ecodistretti di multimateriale e compostaggio ma anche il lavoro che si sta facendo come città metropolitana soprattutto per rafforzare metodi, luoghi e strutture per trattare complessivamente i rifiuti. In modo da tenere insieme non solo Napoli ma l'intera città metropolitana. Da qui ai prossimi tre anni mi sento di dire che ci saranno dei miglioramenti enormi sia dal punto di vista della differenziata, dell'impiantistica e di tante altre cose che faranno di Napoli una città all'avanguardia sul piano dell'igiene urbana. Mantenendo tra l'altro, e questa è un'altra sfida molto complicata in questo momento storico, le aziende tutte pubbliche perché abbiamo Sapna e Asia che sono interessate in tutto questo.